è nei momenti più bui che accadono le cose migliori siamo effettivamente in un momento buio del nostro paese in realtà siamo in un momento buio del nostro pianeta e per assurdo questa situazione mi ha spinto a capire cose che prima non avevo neanche il tempo di pensare perché troppo sommerso dal lavoro ed è proprio in questo momento buio che sto riuscendo a realizzare alcuni dei miei sogni avete visto che sto sviluppando la serie sul drift e ne sono molto entusiasta ma una volta vi ho parlato di un altro sogno quello di aprire un'azienda che si occupasse di acquisto di auto jdm e non solo modifica di queste e infine rivendita finale in questi tempi da quarantena ho iniziato a riordinare le idee e non solo quelle ho comprato degli hard disk ulteriori uno gigante per archiviare i backup e in realtà ho fatto mille backup sparsi in tutti gli hard disk che ho mi sono poi informato su come proteggere le mie informazioni e quelle dei miei futuri clienti scoprendo il servizio del vpn riuscendo anche ad averlo come sponsor di questo video e per questo ne sono davvero grato sostanzialmente utilizzo nord vpn visto che è stato votato come miglior vpn al mondo nel 2019 a cosa serve a proteggermi sia da computer fisso che da smartphone evitando che possano rubarmi dati vpn significa virtual private network in poche parole cripta la vostra navigazione e protegge proprio la vostra identità digitale so che può sembrare una cazzata da psicopatici paranoici ma purtroppo non è così rara l'eventualità di un furto digitale mettiamo caso che siete in un bar vi siete dimenticati il wifi del telefono acceso e il vostro smartphone si connette mettiamo caso che in questo bar c'è anche qualcuno che di lavoro ruba dati attraverso internet e magari avete la bella idea di fare un piccolo acquisto online cosa succederebbe se riuscisse a prendervi i dati della vostra carta di credito questa è solo una delle mille eventualità forse la più grave ma io ho scelto di installarlo e presentarvelo anche solo per evitare che alcuni siti possano prelevare dati semplici come il mio indirizzo email per poi bombardarmi di spam indesiderata o bombardare i miei clienti sappiate che proprio ora c'è un'offerta del 70 per cento a 3 euro e 10 al mese ed ecco anche perché io l'ho fatto ora comunque se sottoscrivete adesso il piano avete in più un mese gratis e se non siete soddisfatti potete interromperlo entro i 30 giorni provatelo tornando invece alla mia azienda ho trovato degli investitori ovviamente e dei soci che prima di essere soci sono amici anche loro youtubers ma soprattutto imprenditori come me la loro identità però ve la rivelo alla fine di questo video non voglio rovinarvi l'hype allora cosa farà e in realtà cosa sta già facendo la nostra azienda esattamente ciò che sognavamo di fare tutti compriamo auto per ora jdm ma non faremo solo quelle e le rendiamo incredibili abbiamo già iniziato lo scoprirete a breve con la prima puntata della serie e prima ancora con le live su twitch dove potrete assistere in diretta ai lavori che faremo sull'auto in questione iniziate a seguirmi anche lì vi lascio il link in descrizione sto già trasmettendo quasi tutti i giorni e infine queste auto le rivendiamo e ovviamente giriamo una serie durante tutto il processo e attenzione non stiamo parlando di una cosa che faremo finalmente lo stiamo già facendo quindi questo di cui vi sto parlando lo vedrete a brevissimo forse già maggio o perlomeno appena ci lasceranno tornare a importare nel nostro paese annuncio abbiamo già comprato la nostra prima auto è stupenda anche lei dietro una bellissima storia che poi vi racconterò e sta arrivando in italia aprite quelle frontiere perché non vediamo l'ora è una jdm a trazione posteriore alla wasgate esterna basta non vi dico altro la prima puntata di questa serie sarà dedicata proprio all'acquisto dell'auto e all'arrivo in capanno quindi lo scoprirete molto presto parliamo ora di come lavoriamo le vostre domande più frequenti sono come importare un'auto bisogna far riferimento a chi lo fa di lavoro infatti noi lavoriamo con mc import ci affidiamo ad un importatore che ormai lavora da anni nel settore così siamo sicuri di non avere alcun problema nel vostro caso quindi non cercate di importarle da soli fate riferimento a chi lo fa di mestiere costa tanto mantenere una jdm sinceramente dipende dall'uso che ne fate come qualsiasi automobile sappiate comunque che in lille di massima a volte costano in realtà meno di un'auto normale nel mio caso per esempio mi costa meno mantenere una silvia piuttosto che un abarth come si fa con le modifiche ci pensiamo noi a farle omologare in germania o in gran bretagna e di questo come di ogni altra cosa non vi dovete preoccupare ci dite l'auto che volete noi la troviamo e pensiamo a tutto noi quanto costa importare un'auto anche di questo non dovete preoccuparvi perché il prezzo che vi verrà fatto è comprensivo di tutto trasporto tutto costo minimo per prenderne una lavoriamo per qualsiasi cifra anche con 10 15 mila euro avete già una macchina importata qui è messa giù bene e i tempi di attesa per farla arrivare dal momento in cui ordinate l'auto in un paio di settimane e qui in italia noi lavoriamo in due modi il primo scegliamo noi l'auto iniziamo a disegnare il progetto di come la vorremmo la importiamo modifichiamo e mettiamo sul mercato chi vuole la prende il secondo forse il più figo il cliente ci dice il modello di auto o in generale il tipo di auto che cerca come lavorerebbe esteticamente e che budget ha da lì iniziamo la ricerca e quando troviamo la base giusta su cui lavorare la portiamo a casa e iniziamo a creare il sogno ora vi chiederete ma chi sono i tuoi soci ok tu sei appassionato di auto jdm conosci il mercato le modifiche ma avrai anche bisogno dello spazio dove tenerle e della capacità manuale nella modifica delle auto con persone che lo fanno tutti i giorni ebbene ho scelto come soci dei ragazzi che sono bravissimi imprenditori e hanno un capanno dove lavorano sulle auto facendo detailing e non solo parlo miei cari dei karmageddon questa non è una semplice collaborazione tra due canali youtube che comunque avverrà ma la nascita di un'azienda insieme ed è il primo mattone per la creazione dei nostri sogni stiamo arrivando ragazzi tenetevi forte anzi fortissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti